Oggi vediamo tre tecniche di colore con l'acqua Libera la tua creatività Impara con me il fashion design Iscriviti by Paton74 Ciao sono Patrizia Come ti ho detto nell'introduzione coloriamo con l'acqua ovviamente era una battuta sono tre tecniche per colorare i figurini di moda che richiedono l'utilizzo dell'acqua per diluire questi strumenti allora intanto vediamo le matite colorate acquerellabili i pennarelli acquerellabili e ovviamente non potevano mancare gli acquerelli io utilizzo quelli in tubetto in genere allora in questo video vedi queste tre tecniche così almeno ti fai un'idea fammi sapere nei commenti quella che ti piace di più vediamo queste tre tecniche ci sono tutti i passaggi e una cosa importante intanto è utilizzare un foglio come vedi un cartoncino che è un foglio da acquerello da circa 300 grammi se puoi anche in cotone 100% cotone e un'altra cosa da ricordare e pensare quando inizi a fare il tuo figurino di moda che lo vuoi colorare con queste tecniche diciamo ad acqua se lo vuoi ripassare oppure no perché se tu lo vuoi ripassare fai il figurino in un certo modo lo colori in un certo modo io infatti questi figurini quando li ho colorati li ho colorati proprio pensando che alla fine volevo ripassarli se non avessi voluto ripassarli li coloravo in un altro modo non è una questione di che colori uso è semplicemente proprio fare una colorazione sapendo che poi aggiungo dei particolari col ripasso quindi questa è anche una cosa importante che ti può essere utile sapere quando vai a fare delle tecniche diciamo ad acqua col pennello o con l'acqua brush se non le vuoi ripassare sai che dovrai aggiungere più particolari con il pennello se invece le vuoi ripassare farai tutte le sfumature i drappeggi con queste tecniche e alcuni particolari invece li aggiungerai con il pennarello a punta fine che poi può anche essere nero o anche la penna se vuoi ripassare a penna bene insieme vediamo questo tutorial se mi segui da tempo sai che pubblico video tutte le settimane se vuoi realizzare il tuo sogno di fare la stylista la fashion designer di mestiere o disegni per passione la moda sei nel posto giusto perché pubblico video tutte le settimane quindi sono video di valore che tu puoi guardare per migliorare il tuo modo di disegnare scoprire nuove tecniche imparare nuovi trucchi per disegnare la moda nei link in descrizione trovi anche il mio nuovo shop online con un sacco di prodotti per la tua scrivania per la tua postazione di studio quindi vai a vedere dei link sul mio negozio e puoi trovare dei prodotti con il design di pato 74 cioè la sottoscritta a tua disposizione acquistabili bene vediamo questo tutorial ci possiamo tenere in contatto anche su Instagram e noi ci vediamo tutte le settimane su YouTube con nuovi video semplici ed intuitivi per disegnare la moda vediamo questo tutorial Grazie a tutti 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 Grazie a tutti